tannictis albonubes albifrons gold ciao a tutti ragazzi bentornati a questo nuovo video bentornati sul canale mi raccomando iscrivetevi per vedere questo ed altri video e non perdervi soprattutto per voi non cosa nulla l'iscrizione al canale per noi invece ci aiutate tantissimo insomma quindi oggi voglio parlarvi di questo splendido esemplare non ci sarò solo io anzi adesso mi tolgo subito così vi darò una buona e gradita visuale verso l'animale che andremo a vedere questo perché oggi parliamo di questo animale non sarà una scheda dogmatica come quelle che potete trovare in giro perché noi non siamo tanto da dogmi è più che altro una richiesta per il periodo che stiamo vivendo moltissimi hanno un pochino timore di spendere troppo come energia per l'acquario questo è uno di quegli animali dove si va a spendere pochissimo di energia per alcune peculiarità che adesso andremo a vedere insieme ma lo faremo nel vasca dei tannictis gold abbreviato allora ci avviciniamo eccoli qui qualcuno di voi può averli visti in qualche tour o nuovi arrivi da tropical mania sicuramente vi parlo mentre sto posizionando la telecamera tra poco smetterò di essere così movimentato si sono dei tannictis sono appartenenti al genere dei ciprinidi sono dei ciprinidi scusate ho finito sono animali a mio giudizio molto molto belli peccato però purtroppo nel tempo sono stati un pochino messi da parte per quanto riguarda la questione acquariofile appunto non sono molto molto diffusi negli acquari non si capisce bene perché o meglio io non lo ignoro il motivo non lo comprendo perché è un animale molto molto robusto questo ovviamente non significa che dobbiamo fare delle vasche senza sistemi di filtraggio senza fondali senza si fa un acquario vero e proprio anche molto 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 bello molto piantumato e la peculiarità è che ha un range di c'è sopporta una forbice di temperatura veramente elevato ad esempio non so per farvene per farvene un esempio si tiene anche nei piccoli pond all'esterno in alcune zone sopravvive anche l'inverno il regime di temperatura normalmente indicato è fra i 5 e i 32 gradi ma lasciamo perdere perché di nuovo dogmatico io vi posso dire che li ho avuti in acquario ho seguito molte persone che appunto hanno i tannictis negli anni e vi posso dire che è un animale estremamente longevo perché di questa taglia sono pochi gli animali che riescono a sfiorare i dieci anni di vita è molto 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 robusto a livello di inquinanti e cose varie molto pacifico quindi è molto in tutto questo qui stiamo ammirando ovviamente la selezione gold poi ci sarebbe l'anestrale del degli albifrons che abbiamo già visto anche quello in altri video che dire altro di questo animale peculiarità appunto è un ciprinide come dicevo prima anche si può tenere anche in vasche di comunità con dei barbus ciliegie ad esempio ovviamente il range temperatura che io vado a consigliare normalmente non è anche lì dogmatico perché se in casa abbiamo ad esempio 22 gradi perché abbiamo dei bambini piccoli o per altri motivi lui si adatterà benissimo anche ai 22 gradi ma se appunto in acquario non riusciamo a salire sopra i 16 gradi e 18 gradi senza il riscaldatore non sarà un problema quindi vive tranquillamente a temperatura ambiente poi un'altra cosa quando siamo prossimi ai 18 18 20 gradi su quella soglia quando parliamo di animali di acqua fredda e penso che in futuro ne parleremo tanto animali di acqua fredda da tenere in acquario e intendo possiamo avere comunque un riscaldatore che ci faccia solo da paracadute cioè in quegli ambienti dove si ricevono diversi sbalzi non è tanto importante la temperatura in sé ma la costanza sulla temperatura o uno sbalzo magari prolungato nel tempo e questo che a volte anche mettendo solo un riscaldatore al minimo 18 gradi che probabilmente nella maggior parte delle case non si accenderà mai ecco questo ci fa un po da paracadute quando apriamo le finestre di casa al mattino per far pulizia per prendere aria per un sacco di altre cose che possono andare a capitare appunto andremo così a essere tranquilli per la questione sbalzo termico ovviamente mi scriverete sotto nei commenti sicuro quindi può vivere senza riscaldatore sì ovviamente solo un mio consiglio quello di inserire il riscaldatore non per scaldare l'acqua però solo per mantenerla costante cioè praticamente o non si accende o se si accende è veramente veramente limitato chiaramente in questa nuova fase di video che andremo a creare come già detto parleremo di animali che vivono in acqua fredda però non proprio acqua fredda e basta forse anche un errore definirli di acqua fredda perché poi dipende sempre dal contesto l'acqua fredda tratteremo anche animali che invece che sopravvivere anche a 15 o a 12 gradi come questi possono sopravvivere per esempio a 20 gradi e non tanto bene a 18 come alcune specie che poi andremo a vedere in altri video non è un animale costosissimo chiaramente anche qui come su tutte le varietà su tutte le specie conta moltissimo la derivazione io li trovo robustissimi se arrivano bene ovviamente e negli anni come sapete io ci tengo tantissimo al vivo quindi a tutti gli animali che abbiamo e quindi abbiamo selezionato dei fornitori allevatori e stabulatori soprattutto e quindi sono animali quelli che riusciamo ad ottenere veramente veramente un quadro diciamo così poi cos'altro come questo ovviamente non è un acquario quindi anche qui non fate delle proporzioni dei paragoni come acquari anche lì possiamo stare abbastanza sul piccolo piccolo vuol poter dire un grosso modo un 50 centimetri o un 40 centimetri a seconda del del tipo di acquario sistema di filtraggio ovviamente non non è diverso da altri e è tutto questo ovviamente l'illuminazione l'andremo a decidere più che altro per la fitodepurazione da parte delle piante quindi in base al tipo di piante che andremo a inserire all'interno e ovviamente anche a tutti i protocolli di fertilizzazione eccetera eccetera bene bene ragazzi allora un'altra cosa voglio aggiungere visto che siamo alla fine di questo video se mi viene in mente qualcosa come sapete non ho mai né una scaletta né un copione voglio dire una cosa ho ricevuto dei commenti un po' particolari ultimamente sul canale ovviamente youtube dove a volte mi si accusa di non rispondere alle domande oppure di tirar fuori la questione della consulenza acquario tropical mania ragazzi come vedete sono mesi che siamo un po fermi con i video questo che cosa può farvi capire sicuramente magari vi farà capire che ci va ci vuole molto tempo sia per il lavoro sia per creare video avere il tempo di farli editarli e tutto il resto quando è possibile riusciamo a rispondere nei commenti se la risposta è breve eccetera 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 quando non è possibile non lo facciamo perché magari rischieremmo di portarvi fuori strada con la risposta troppo corta che magari non è esaustiva e ti fa fare degli errori quindi preferiamo non rispondere preferiamo ogni volta andare approfondire dove ove ce ne sia la necessità ovviamente se discorso un po più complesso e si va tramite la consulenza acquario tropical mania l'abbiamo creata apposta proprio per questo motivo qui è andata a gonfievele fino adesso va benissimo è un buon servizio almeno così ci dite e quindi direi che è l'unica soluzione che abbiamo non è che non rispondiamo per antipatia o per cose di questo genere quindi siete sono veramente pochissime le persone che hanno scritto cose di questo genere però potrei anche non dirlo ma è solo per dare una spiegazione agli altri che ovviamente vedono dei commenti a volte che non stanno né in cielo né in terra dove veniamo accusati di non fornire spiegazioni di non rispondere alle domande fatevi un giro sul canale siamo oltre 300 video moltissimi sono tutorial forse la maggior parte e quindi direi che diciamo che qualcosina l'abbiamo detto sull'acquariologia la biochimica e tante altre cose poi ovviamente ognuno cerca quello che crede più giusto per la propria esperienza bene ragazzi io spero di continuare così a creare video ovviamente ma ce la faremo sicuramente periodo un po particolare nuovamente ma d'altronde questo canale è nato con dei periodi estremamente particolari quindi sono tornato a farvi un po di compagnia dovrete sopportarmi un pochino e niente quindi chi di voi ha bisogno di creare un acquario e parte da zero mi raccomando abbiamo la consulenza acquario tropical mania non fatevi scrupoli non c'è problema oggigiorno si lavora benissimo in quel modo chi di voi vuole sostenerci tramite noi siamo sempre comunque un'azienda ovviamente di vendita anche non solo di consulenza ma di vendita anche di pesci prodotti acquari piante e tutto il resto quindi chi vuole sostenerci che in zona che vuol passare noi per noi siete sempre i benvenuti e ci date una mano in questo periodo purtroppo un pochino difficile bene ragazzi io vi saluto e buona acquario a ciao